cari amici telespettatori di San Marino Web TV un buongiorno da Axel Paderni un bentornati al nostro approfondimento dedicato alla Victor San Marino Calcio quest'oggi abbiamo il piacere di avere il neotecnico eh appena insediato Stefano Cassani al quale diamo un caloroso benvenuto. Buongiorno a tutti. Beh innanzitutto com'è stato questo impatto con la società del presidente Luca della Valda. Ma è stato un impatto estremamente positivo ed estremamente bello per me perché eh ho sono avuto subito a che fare con eh le persone che poi compongono questa società e il clima che si respira il il le sensazioni che ti fanno vivere al campo ogni giorno la società eh l'organizzazione che c'è dietro la disponibilità delle persone ti fanno sentire a casa ogni giorno e non ti nascondo che molte volte è proprio un piacere arrivare al campo anche tanto tempo prima per vivere per vivere questo ambiente per vivere questo clima che si respira ogni giorno. Eh aggiungo che in questa avventura ovviamente sei affiancato anche da uno staff dirigenziale ma anche da uno staff tecnico comunque di primo livello e soprattutto di eh grandissima esperienza. Assolutamente sì eh lo staff è composto da Paolo Rossi che è il vice allenatore giocatore di grande esperienza eh novello allenatore da pochi anni che ha iniziato l'esperienza di allenatore ma per me è persona eh fondamentale eh per esperienza per umanità ehm persona che conosce l'ambiente san marinese per averci giocato tanti anni sia da come sia nel San Marino che nel campionato interno poi c'è Daniele Bovo che è venuto con me dalla del Ducca a Grama come preparatore dei portieri ehm il preparatore atletico Samuele Tomasini che è qui dall'anno scorso che ho scoperto e ho conosciuto in quest'estate quando si è andato a comporre lo staff e sono rimasto colpito dalla sua professionalità dalla sua competenza dalla sua disponibilità eh sono veramente rimasto colpito e l'ho voluto a tutti i costi con me con che proseguisse il suo percorso nella Victor San Marino ma che lo iniziasse con me perché ho riconosciuto una persona di estremo valore. Eh come sono state queste prime settimane di allenamento? Chiaro che i primi allenamenti sono stati fatti a domagnano poi eh vi siete ovviamente spestati fuori confine. È chiaro che gli allenamenti poi prima che hai detto dopo le cinque del poveriggio effettivamente il caldo si fa molto sentire. Sì sì. Specialmente le le prime i primi dieci giorni tra quelli a domagnano i primi a San Mauro perché eh erano capitati in quelle famose settimane bollenti che tutti percepivano non solo sui campi di calcio ma eh diciamo che stanno proseguendo bene. Adesso le temperature sono anche più abbordabili e quindi alle alle diciassette dalle diciassette ci alleniamo dalle diciassette alle diciannove quindi dai diciamo che si riesce a lavorare bene. Poi ti ritieni soddisfatto di quello che è stato soprattutto anche l'approccio tuo verso il gruppo? Sì sì sono molto soddisfatto ho trovato un gruppo eh partendo da dal dai dai giocatori confermati dalla passata stagione eh ho trovato estrema disponibilità estrema voglia di riconfermarsi eh nell'ottimo risultato che hanno tenuto l'anno scorso e possibilmente di migliorarlo ehm allo stesso modo ho avuto un grande aiuto da chi conosceva appunto dai ragazzi che conoscevano questo ambiente nel riuscire a integrare al meglio i ragazzi nuovi che sono arrivati da altri in realtà. Beh nel nelle scorse settimane abbiamo eh avuto il piacere di incontrare il presidente della Valda c'è da dire che comunque lo scorso anno la Victor se l'è giocata fino in fondo però nessuno si aspettava un livello eh di un campionato di eccellenza così alto. Sì il campionato di eccellenza è un campionato di estremo valore eh il campo poi come come hai detto tu l'ha dimostrato l'anno scorso quest'anno il livello sarà ancora più alto perché ovviamente il campionato sarà 20 squadre e 38 partite sono da giocare eh in poco tempo con tanti turni infrasettimanali quindi il livello secondo me sarà ancora più alto e si integra si integrano le squadre del bolognese che l'anno scorso non abbiamo incontrato e che sono tutte società importanti abituate a fare campionati di alto livello alcune società appena retrocesse dalla serie D che quindi sono strutturate per affrontare un campionato importante e possibilmente provare a ritornare nella categoria superiore eh trasferte più lunghe perché a differenza dell'anno scorso ci saranno trasferte più lunghe il campionato quest'anno sarà di un livello secondo me molto più alto già era un ottimo livello l'anno scorso quest'anno lo sarà molto di più. Eh eh per prepararsi a questo campionato abbiamo letto negli scorsi giorni che la società ha predisposto un calendario di partite e di uscite di prime uscite con avversarie subito di di livello molto importante quindi come pensi che possano eh come poter pensi che potranno essere approcciate queste prime uscite poi ovvio è ancora presto per giudicare e anzi io penso che in questo momento la squadra abbia bisogno di tranquillità serenità e di lavoro sì noi stiamo al cento per cento su per creare un'identità nostra per creare un'identità importante a questa squadra che ha giocatori importanti e che ed è giusto che creino la loro identità e che poi la saperemo in campo quindi in questo momento l'approccio alle partite è fondamentalmente per per lavorare su noi stessi su quello che stiamo provando ogni giorno in campo e per creare quello che vorremmo poi dopo dimostrare in campo quando dal 28 agosto si inizierà le partite sì sono di difficoltà alta ma perché comunque con la società col direttore con la con la dirigenza si è preferito eh alzare il livello immediatamente mettere alla prova la squadra immediatamente piuttosto che eh trovare affrontare magari eh squadre di categorie inferiori che alla fine ti mettono meno eh meno difficoltà eh come si dice preferiamo soffrire e crescere con un avversario più importante e più blasonato che invece magari eh essere subito bellissimi e subito vincenti con avversari che in questo che magari non rispecchiano poi il livello del campionato che andremo a affrontare beh adesso io ovviamente eh ti ringrazio ovvio che eh come abbiamo parlato in precedenza eh l'obiettivo della società del presidente della balda è quello di essere promosso però ovvio che come tu stesso hai sottolineato il livello quest'anno se lo scorso anno era alto quest'anno sarà ancora di più quindi eh possiamo dire un campionato a venti squadre secondo me bisogna per assurdo ragionare eh quasi come dei professionisti sì assolutamente c'è l'obiettivo che è quello che ci siamo prefissati è di provare a adastare comunque nelle prime posizioni come ha detto l'altra sera il presidente della balda e di e possibilmente di provare a vincerlo è ovvio che i ragionamenti e l'organizzazione da parte della società era già prima che arrivasse io era comunque strutturata per essere dei simi professionisti a tutti gli effetti beh lo scorso anno eh per diverse volte la squadra la squadra ha giocato al San Marino Stadium che ho nel nella nostra sovraimpressione speri anche tu di poterci giocare in quello stadio? Beh sicuramente è uno stadio che ha una grande storia è uno stadio che ha affrontato campionati di altissimo livello e penso che ogni allenatore ad ogni allenatore piaccia poter scendere in campo in una in una struttura del genere per tutto quello che rappresenta però dopo queste sono questioni che non riguardano me insomma io faccio l'allenatore dove dove mi vincono di giocare gioco il nostro lavoro il mio lavoro cerca di essere cerco di essere al massimo delle mie della mia disponibilità per lavorare con la squadra a prescindere del campo dove si possa giocare ovviamente bene ringraziamo il il mister Stefano Cassani per essere stato qua presente e gli auguriamo noi come San Marino Web TV e Tribuna Politica Web San Marino un in bocca al lupo per questa stagione che sarà molto emozionante e ci vediamo nel proseguo dei programmi di San Marino Web TV un saluto e ci vediamo nel prossimo video